cominciamo con il soda bread preparate gli ingredienti secchi farina doppio zero farina integrale sale zucchero semolato e bicarbonato di sodio mischiate aggiungete 450 ml di latticello e mescolate il latticello dà l'impasto un sapore unico lo potete trovare in molti grandi supermercati se serve aggiungete ne altro infarinate una superficie e impastate delicatamente per circa 30 secondi infarinate una teglia e al centro mettete l'impasto con un coltello incidete una croce sulla superficie cuocete nel forno preriscaldato per 30 minuti incredibilmente facile da preparare e delizioso soda bread caldo croccante e fatto in casa